Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calcio Toro, bentornati in questo nuovo video YouTube. Dunque, Milan-Torino di Coppa Italia finisce 5-4 dopo calcio di rigore, naturalmente, nei tempi regolamentari e supplementari 0-0. Una partita, diciamo, di cui mi importava il giusto, se devo essere sincero. Alla vigilia non mi aspettavo nulla di che, non mi aspettavo una grande prestazione, un motto d'orgoglio. Non mi aspettavo nulla, ma neanche desideravo nulla in particolare, ecco, è la Coppa Italia, dopo tutto. Gli scorsi anni io su questa competizione ci ho puntato molto, insisto molto sia sui social, Instagram, Twitter, sia qua su YouTube. Ovviamente non ci abbiamo puntato, non siamo mai andati oltre i quarti, quindi non vedo perché quest'anno avremmo dovuto fare uno strappo alla regola, ecco. E infatti non è andata, non è andata bene neppure con la carta sorpresa, con la lotteria dei calci di rigore, dove un 50-50 alla fine vince la squadra più fortunata. A meno che tu, come rigorista, non mandi Rincon. Se mandi Rincon, che è un fabbro a battere il rigore con tanto di fascia al braccio, beh allora c'è qualche problema di fondo, probabilmente. Infatti Tatarugiano non ne para uno, ma prende quello del venezuelano, imprevedibilissimo, lento, insomma un rigore proprio brutto. Un giocatore con i piedi quadrati che diventa sempre di più con il passare del tempo il simbolo di questo Torino. Un Torino sì che si impegna, grintoso, talvolta neanche troppo, ma mettiamo grintoso, dai ci mette il cuore granata, ma poi tecnicamente è dove pecca di più e dove non riesce a fare il salto in più. E infatti abbiamo una difesa pessima, in avanti siamo completamente sterili contro qualsiasi tipo di squadra, non solo contro il Minan, e non sappiamo palleggiare, come tra l'altro dichiarato da Marco Giampaolo nella conferenza post partita. Ecco, questo video può basarsi interamente sulle dichiarazioni di Marco Giampaolo, che ha parlato di una squadra che non ha palleggiatori, di necessità di investire, di intervenire sul mercato, e ha anche rilasciato qualche dichiarazione riguardo alla posizione tattica, alla posizione sul campo di giocatori, quale Buongiorno o Jacopo Segre. Ci arriviamo tra poco, però prima di aprire questi discorsi vorrei parlare un po' della partita in generale. Questo va preso come un video sia post partita che del giorno dopo, perché per ovvi motivi, visto che il match si era protratto anche un po' troppo in avanti, ho deciso di posticipare tutto al giorno dopo. Allora, generalmente mi è piaciuto questo Torino, in ottica generale. Allora, è il solito Torino, è il solito Torino che pecca nei soliti punti, ha provato a palleggiare, a creare manovre rapide, passaggi, scambio del pallone, ma non ha i giocatori per farlo. E dopo un primo tempo semidecente, in cui comunque non abbiamo sofferto troppo la pressione del Milan, e siamo stati molto bravi a contenerlo nel secondo tempo, come al solito, o è il primo o è il secondo, partita completamente buttata. Non abbiamo preso gol solo grazie a delle distrazioni, delle banalità del Milan, oppure fortuna al quadrato. Mi viene in mente l'occasione di Calabria dove ha preso palo esterno, mi viene in mente quell'azione rocambolesca con palo, Vania, palo, Vania, altre parate di Vania Milinkovic-Savic, che nonostante la poca sicurezza effettivamente che dia tra i pali, una cosa che comprendo, l'hanno sottolineato molti i tifosi Granata, non ha giocato una brutta partita tutto sommato. Molti l'hanno proposto come titolare al posto di Salvatore Sirigu, a me il sardo, nonostante tutto, nonostante i difetti comportamentali, dà ancora più sicurezza. Detto questo non ha parato nessun rigore, poi dopo i 120 minuti, mi ha deluso molto anche perché è un portiere che si presenta comunque sulla carta come un ottimo pararigori, però vabbè, non voglio soffermarmi troppo sulla figura dell'estremo difensore. Detto questo, in avanti nulli, inesistente, questa è una critica che va apposta, è molto importante. È una squadra che, lo sappiamo, non riesce a giocare con possesso palla, scambi rapidi, questo l'abbiamo ripetuto 50.000 volte, e se non riesci a giocare così, ovviamente, devi virare sui lanci lunghi. Per me Zazza da solo non è un giocatore con la tecnica necessaria per poter stoppare il pallone, prendersi, andare da solo e segnare. Non può farlo, non lo può fare neanche il Gallo Belotti, per dire che a giocate di questo tipo comunque nel tempo ci ha abituato, qualche volta, occasionalmente. Quindi se non lo può fare, il tuo attaccante migliore. Come puoi pretendere che Simone Zazza, un attaccante già scarso di suo, piazzato in un contesto dove non vuole stare, e soprattutto impiegato così poco, senza un supporto da centrocampo e senza un supporto in avanti, come puoi pretendere, possa fornire una buona prestazione. Difatti per me Zazza non ha giocato bene, ma non è neanche colpa sua. Diciamo che si è impegnato, ma come al solito va a mancare la sostanza. E spesso, tra l'altro, abbiamo visto Lucano tentare la conclusione da fuori, forzare la giocata. Questo perché? Perché ho più di tre giocatori, ma secondo me addirittura più di due, e non li portavamo in avanti ad accompagnare la manovra. E quindi abbiamo avuto diverse situazioni di gioco, quelle che io detesto personalmente di più, dove i giocatori, non sapendo bene che cosa fare, tirano, tirano da qualsiasi posizione a prescindere. Questo lo fa molto spesso Blotti, lo fa molto spesso Zazza, lo fa molto spesso in generale tutto il comparto offensivo e anche Rincon. Ed è una cosa che non sopporto. Piuttosto rallenta la manovra, piuttosto fai un retropassaggio, ma non gettare il pallone così. Però che cosa posso imputare ai calciatori? Diciamo che le dinamiche hanno portato a errori di questo tipo e a forzature di questo tipo. Goiak spesso si è trovato da solo in una situazione di uno contro uno, non è riuscito a sfruttarlo neanche una volta, spesso ha sbagliato l'aggancio. Per me non ha giocato una brutta partita fino al cinquantesimo. Poi è un po' calato di rendimento, ha sbagliato molti palloni, ripeto, ma comunque se non accompagni la manovra puoi pretendere poco da un giocatore che è ancora in fase di ambientamento e non è un fenomeno. Peraltro giocatore sballottato da una posizione all'altra. Ieri ha giocato nella posizione del trequartista, quella che gli si addice di più, se devo essere sincero. Ma sappiamo benissimo che per necessità era stato messo seconda punta e secondo me non ha le caratteristiche per poter giocare seconda punta. è stato posizionato mezzala dove ha giocato semplicemente una partita pessima contro il Milan a San Siro e infatti è stato sostituito subito a fine primo tempo. La sua posizione è quella del trequartista. Dietro le punte è un giocatore che ama giocare la palla rapidamente, servire i compagni senza un centrocampo e senza inserimenti di mezzali è difficile, è difficile. Peraltro anche il compagno di reparto in avanti ovvero Simone Zazza ripeto non è un giocatore abile tecnicamente quindi non sono delle mansioni, dei compiti che puoi richiedere a Zazza secondo me. Quindi una volta messi in evidenza questi punti io direi di concentrarmi su altre due note che sono Buongiorno e Segre. Segre che ha giocato nel suo ruolo naturale di mezzala sinistra, ne abbiamo parlato moltissimo ieri in live su Instagram, ringrazio tutti quelli che l'hanno seguita peraltro, molto molto seguita, è andata molto bene. Ah, Segre mezzala sinistra è il suo ruolo naturale, ha giocato una partita sicuramente discreta, molto meglio da play e da play basso comunque è un rincon, nulla più. E infatti sono molto preoccupato per la sfida di sabato contro lo Spezia perché con l'espulsione di rincon per somma da munizioni, con l'escursione di rincon chi mettiamo nel ruolo del regista basso? Sì, ovviamente verrà selezionato Segre anche perché Baselli uno, lo dovresti testare nel ruolo del playmaker e già nel suo ruolo naturale non è che ti faccia così tanto la differenza e due, perché non è al 100% della sua condizione ideale. Di conseguenza, per forza, la scelta ricade sul giovane Torello che vedremo che tipo di prestazione fornirà. Io non sono molto fiducioso sotto questo punto di vista, vorrei Segre giocare finalmente nel suo ruolo naturale che è la mezzala sinistra. Per il resto, buongiorno in difesa molto bene. È un giocatore che ha personalità, che va avanti col pallone, sa quando dribblare, non esagera, attento in fase di marcatura. L'avevamo già visto a Napoli, insomma, uno sprazio delle sue qualità. È un giocatore ancora acerbo sul quale si può lavorare, si deve lavorare anzi, perché è un'occasione che non va persa. Non va assolutamente persa. Molti hanno addirittura ipotizzato una sua possibile titolarità a discapito di Lianco. Secondo me Lianco è ancora necessario nei tre dietro, anche se effettivamente è un giocatore che spesso commette la cappellata, ma è l'unico che sappia impostare. E in una squadra di questo tipo è veramente necessario avere un giocatore che sappia impostare, soprattutto quando tentiamo di costruire dal basso e non ce la facciamo. E quando bisogna forzare la giocata in avanti non posso vedermi Izzo che me la spazza, perché sappiamo poi come va a finire. Già facciamo fatica con Lianco e le altre squadre ci massacrano con il 70% di possesso palla. Se togliamo l'unico giocatore tecnico del reparto, del comparto difensivo, beh, è finita. Non avendo peraltro un play. Rincon nel complesso per me non ha giocato una brutta partita, ma è chiaro che gli mancano le caratteristiche da giocatore tipico di Marco Giampaolo. Sono sempre i soliti appunti che faccio, le solite considerazioni sul venezuelano. Si sacrifica, ma non ha i piedi. La scelta di fargli battere il rigore, se è stata una scelta oppure se ha deciso lui personalmente, è semplicemente tremenda, pessima. E si sapeva benissimo come sarebbe andata a finire. Penso che qualsiasi tifoso Granata avesse potuto immaginare come sarebbe andata a finire quel particolare momento di gara. eravamo tutti terrorizzati, infatti le nostre paure si sono concretizzate in un incubo, perché dopo 120 minuti e calci di rigore perderla per una leggerezza del genere ti rode un po'. A me personalmente, ripeto, non fregava nulla della partita, ma perderla così, proprio no. No, no, no. Peccato non aver eliminato il Milan, non essere avanzati ai quarti di finale, però quello che mi preoccupa di più, quello che mi preme di più, è che potevamo perdere nei minuti regolamentari e arrivare magari in una condizione fisica migliore contro lo Spezia. Partita decisiva, loro a 17 punti, noi a 12, se non vinciamo in casa contro lo Spezia, beh, la scalata alla salvezza si fa più dura del previsto. Per il resto che altra considerazione c'è da fare? Parliamo brevemente del mercato, beh, appunto per sostituire Rincon, per sopperire al buco che c'è in avanti per contriguardare la seconda punta, seconda punta, insomma, e anche dell'esterno sinistro, peraltro servirebbe un interprete secondo me, considerando che in questa partita abbiamo visto i nomi che bazzicano fuori a sinistra, insomma, Murru che è completamente un mediocre, Rodriguez che è un mediocre, al stesso livello di Murru, non può giocare esterno, non sale, non è un terzino di spinta, deve stare ovviamente in una difesa a 4 oppure centrale in una difesa a 3, punto, questo è il suo ruolo. Ansaldi che, ragazzi, a me piace come calciatore, ma purtroppo fisicamente, sia a livello di integrità fisica, che proprio a livello di fisico, non è presente e non è più adatto a questo toro, veramente non dà alcun tipo di garanzia, quindi va preso un esterno sinistro, molto probabilmente per questo 3-5-2, che non verrà preso naturalmente, però vabbè, questo è l'ultimo dei miei problemi, quello su cui vorrei concentrarmi io è play basso e seconda punta, play basso e seconda punta, due ruoli cruciali, 13 gennaio, nulla in entrata, nulla in entrata, neanche in uscita a dirla tutta, perché si tratta della cessione di Meite, sembrava fatta col Milan a un milione più nove di riscatto, e invece no, e invece no, perché adesso si inserisce al Las Verona, perché la trattativa sembra arenata quasi, per quanto riguarda la seconda punta, qua a me non vuole, la Fiorentina non vuole cedere qua a me, perché non ha garanzie, e allora il toro prepara un piano B, che però è meglio di qua a me, quindi non capisco perché non si punti direttamente l'Amers dell'Atalanta, anche in prestito secco, perché parliamoci chiaro, in una situazione di questo tipo, si prende tutto quello che si può, e soprattutto, zero nomi per quanto riguarda il play basso, io ho sentito il trequartista, Cichigno, Cichigno è un giocatore che si è assegnato due gol in Coppa ieri, ma è un giocatore semplicemente imbarzante, un giocatore che ha una media di cinque partite, con il quattro per cento dei minuti giocati di quelle partite, tra l'altro osteggiato, odiato dai tifosi del Benfica, quindi sicuramente non porta bene, perciò nulla da dire, qua si manca al punto, il play basso, ci sono tanti nomi, ci sono Petriccione, ci sono Schune, Dievarà, ci sono veramente tantissimi, ora io non sto a nominarli tutti, dovrei farci un video a parte probabilmente sul play basso, però le possibilità ci sono e sono infinite, bisogna ragionarci su con un attimino di serietà, anche visto che il fatto che Lobotka non partirà, nonostante il sondaggio del Toro, effettivamente il Napoli avendo speso 20 milioni per il calciotero a gennaio, non è intenzionato a cederlo, almeno per il momento, ricordo un po' la situazione di Verdi, poi lo prenderemo, tranquilli, quando farà schifo, ovviamente, niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, tra l'altro non ho parlato di Singo Mezzala, ma non c'è nulla da dire, dato che ha giocato per Mezzala, e poi è stato subito spostato sulla fascia destra, con l'ingresso di Lukic, grazie a Dio, e niente, fatemi, ho sulla fascia sinistra, scusate, non mi ricordo su fascia destra e sinistra, perché c'era anche voi, vada in campo, vai, comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa partita, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Instagram, che io ho la calciotora, ma trovate tutti i link, comunque qua sotto in descrizione, anche nella sezione commenti, e niente, alla prossima, sabato, per la partita contro la Spezia, incrociamo le dita, e speriamo in una salvezza tranquilla, e in un buon girone di ritorno,